Siamo alle solite, la gente si lamenta quando non ci sono i servizi pubblici e quando questi vengono attivati non li utilizza. Una situazione questa che si può toccare con mano a Cinte Tesino, dove la comunità di Valle ha realizzato su indicazione formale di decine di famiglie della Valle il primo asilo nido del Tesino. Ora che è tutto pronto per ospitare fino a 19 bambini nel nido di Cinte, gli iscritti risultano al momento essere solo quattro. Si spera che questa mancata iscrizione dei bimbi al nido sia determinata dalla novità dell'iniziativa, altrimenti queste strutture vanno realizzate dove le famiglie, oltre a richiederle, le utilizzano.